Allora ci ha raggiunto anche il tecnico dell'HC Banca Popolare di Fondi, Jacinto De Santis. Allora mister, la terza partita che perdete ai tiri di rigore, ma questa sera ci sembra di poter dire che abbiamo visto un HC Fondi decisamente diversa dalle ultime occasioni. Abbiamo giocato una buona partita, anche se abbiamo fatto troppi errori, però non era facile giocare contro questo Siracusa. Hanno avuto ritmo alto, difesa aggressiva e noi siamo incappati in alcuni errori stupidi, soprattutto nel primo tempo. Il secondo poi sul meno tre avversari siamo usciti fuori difendendo molto bene e tenendo bene nelle situazioni che avevamo studiato in allenamento. In attacco poi siamo riusciti a fare il gioco che volevamo e siamo andati anche sopra di uno. Poi purtroppo siamo morti con la palla in mano e non siamo riusciti a concretizzare l'ultimo attacco e questo è un peccato. Certo, comunque a questo punto con la sconfitta interna del Città Sant'Angelo ad opera del Conversano in qualche modo si mantiene una buona posizione ai fini dell'ingresso nei play-off, nella pool play-off. Come pensi che si possa evolvere a questo punto la stagione agonistica della tua squadra? Sì, da una parte è un buon risultato visto il nostro, anche se speravo il contrario. Speravo una nostra vittoria, avevamo lavorato tanto in settimana come non mai per questa partita e i risultati sono visti perché poi è stata la miglior partita da quasi due mesi a questa parte. Adesso vediamo, abbiamo quattro punti di vantaggio sul Città Sant'Angelo, adesso sabato faremo una sosta, ricarichiamo un po' le batterie, lavoriamo per le ultime due partite e poi ci concentriamo su quello che deve avvenire. Certo, ok, grazie a mister De Santis e sempre in bocca al lupo per il proseguimento della stagione. Grazie a tutti.